Un bel rientro in azzurro, una bella partita anche se poi è mancato qualcosa in quel quinto set. Sì, è mancato qualcosa anche nel quarto set. Peccato, eravamo punto a punto e ci stavamo divertendo. Avevamo iniziato a ingranare, peccato per quel calo. Fisicamente stiamo ancora recuperando, quindi giochiamo anche da poco tempo insieme perché alcune sono arrivate proprio a questa etapa. Quindi guardando in positiva alla fine si sono viste delle belle cose. Per te personalmente che rientro è stato? Che ambiente hai trovato? Per me rientrare era molto importante. Io amo questa maglia e la indosso con onore. Quindi sono veramente felice che Davide mi abbia dato questa opportunità. Che gruppo hai trovato? Che ambiente c'è in questa Italia così giovane, ma anche così aggressiva, di voler arrivare così affamata? Beh, secondo me si è vista in campo. Ci divertiamo. È un'Italia giovane che si diverte. Non posso dire nient'altro di avere un bel gruppo. Sono felicissima di far parte di questa squadra. Dove volete arrivare? Intanto nella WNL? Beh, in più fondo possibile. Giochiamo per questo, giochiamo per vincere. Lasciamo questa sconfitta, guardiamo avanti. Comunque noi alle Final Six ci vogliamo arrivare.